Siamo con gli Alma Megretta, con il batterista Gennaro Ticiao Ciao Gennaro E poi siamo con il tasserista Paolo Paolo come me Che ci sta riprendendo, ecco E allora Paolo, voi a che ora suonate domani? Suoniamo intorno alle 4 credo Quindi saremo, insomma, tra i primi probabilmente a salire sul palco Hai visto le previsioni del tempo? Che si dice per domani? Ci sarà sole sicuramente, almeno quando suoniamo noi ci sarà sole Una delle vostre canzoni, mi dicevi? È sole appunto, quindi questo dicevo, ci sarà sole quando suoniamo noi Ah, quello poco ma sicuro Sì E parliamo con la batteria qui, con il batterista E quindi quante canzoni suonate domani? Tre, tre, quelle che diciamo, di ordinanza che dobbiamo fare Voi siete un gruppo forse che tra quelli presenti hanno più presenze, no? Al primo maggio o no? Credo di sì, sì, ne siamo venuti parecchie volte Ci siamo venuti parecchie volte nel corso degli anni Quante volte figliolo? Quante volte figliolo? Io non ricordo precisamente quante volte Però credo che, insomma, sei, sette, otto volte Forse anche di più, no? No, di più non penso Qual è stato il ricordo più bello di questi primi maggio? Vabbè, forse proprio la prima volta che eravamo praticamente degli sconosciuti Anno? Eh, che era? 93 93? Quindi proprio... Sicuro, eh, però probabilmente... Andiamo a vedere su Wikipedia Per in che tempo fa? 93, sì, 93 Confermi, parlo Sì, 93 il primo anno Perché il... Oggi si fa il venticinquesimo, domani Venticinquesimo... Iniziato nel novanto Nel novanto Noi eravamo alla terza edizione, in pratica Ed eravamo... Non avevamo... Non era nemmeno ancora uscito il primo disco Forse l'avevamo finito il disco, ma non era nemmeno ancora uscito Quindi... Quindi proprio mi ha lanciato il primo maggio Ah, io direi che è stato uno delle... Il primo maggio è stato uno degli appuntamenti iniziati Almeno i primi anni È stato importante per noi Perché poi, appunto Già il primo anno ci fu una bellissima reazione E poi ricordo l'anno successivo All'indomani dell'uscita del primo album Quando arrivamo ci fu Una fantastica reazione Avete suonato in duetto con... Un duetto con qualche persona Un altro artista grande, sì? No No Invece, non qui? Eh, è successo parecchie volte Uno su tutti Vabbè, per motivi ovvi ci piace ricordare una partecipazione Anche... Una collaborazione anche recente con Pino Daniele Che abbiamo accompagnato nel tour dell'anno scorso Lui negli ultimi anni aveva organizzato questi tour Spesso... Si chiama Tutta una storia dal suo Una serie di ospiti Amici che lui aveva... Con i quali lui aveva scelto di condividere il palco E poi ricordo che abbiamo fatto queste 3-4 date a Napoli Molto... Molto belle, insomma Questo mi fa piacere ricordare questa ultima collaborazione Napoli molto presente Come abbiamo parlato di Pino Daniele Si è aperta la nuvola e è uscito il sole Esatto Il grande poeta Pino Daniele Il grande musicista Napoli molto presente quest'anno Anche James Enese Sì È intravitabile È intravitabile È buono Ci fa piacere Mi sembra giusto Perché Napoli ha dato tantissimo alla musica italiana e non Per cui... È ovvio, certo, certo Bene, allora chiudiamo con questo sole Una battuta Mentre ecco, un saluto anche Questo andrà sul sito degli Alma Megrete Live Ah, è live streaming Benissimo Con Periscope Ecco, ne parlavamo prima Quindi un saluto a Periscope Gioco di specchi Che si mettono all'infinito Stiamo vivendo dietro una videocamera ormai Nel grande fratello In un Truman Show Un Truman Show Un saluto, grazie Paolo Ciao, grazie Avete provato bene Avete messo a dura prova Perché con voi Le casse qui Se reggono con voi Reggono con voi Tutto a posto Grazie Buon lavoro Buon lavoro